Salve amici di YouTube Questa è una nuova puntata di Hunger Games Qui c'è anche Dr. Koblitz in diretta C'è non in diretta con me In conversazione perché sta giocando E deve essere concentrato Adesso Se riesco a farvi vedere Eccolo qua Dr. Koblitz sarebbe Sperando che non sia morto Eccolo E diciamo nella seconda fila Il terzo Spero di Trovarlo Perché lo sto cercando Un po' in giro Perché siamo amici E quindi volevo cercarlo Io ne ho ammazzato uno Ho fatto headshot Come dice lui Headshot Però non trovo Non trovo nessuno In pratica ancora non lo trovo Quindi è un bel problema Perché se non riesco a trovarlo Mi ammazzano prima gli altri Ecco Un po' di lag Come al solito Non guasta mai E dai mouse di merda Ok Super trollo Separiamoci Dottor Koblitz Se non riesco a capire In che direzione Tanto ho bisogno Delle frecce Non ne ho Cioè Ne ho un bel po' Pesce ha effettuato Cinque uccisioni Che ammazzato E killerita Io tenterò di sopravvivere Più tempo possibile Magari riesco a trovare Dottor Koblitz In giro Ma da quella parte C'è Junie Basta camminare Non correre Perché se no Spreco energie Sto andando contro di lui Però Che coglione Andiamo verso di là Inchiaio Che cazzo di lag Ecco E lo sapevo E Porca miseria Tu come sei ancora vivo Sì Sono sul tetto Del mondo Mi sta venendo a cercare Alleluia Alleluia Timmy Merda Mi ha visto Ma no Sono caduto soltanto Non sono spaventato Per niente E io Ma Mammami Contento Sei mouse Ti sposto Così vuresti essere a posto Ma che cazzo Stanno facendo tutti Non stanno killando Non stanno facendo niente Beh Allora Allora No Non buttarti Non capisco Lì c'è più gente Capito Dall'altra parte Dove sto andando io C'è più gente Questo Vampy 57 Non mi fido manco Di andarlo a ammazzare Perché E vabbè Devo spaccare le ossa Prima o poi Spratroll Sì ma Tra poco Sbendiamo spammati Tutti quanti Di nuovo da capo Non posso andarmene Manco di là Perché Perché se c'è Dottor Cobri Si di là Non posso Fermo Maialino Un pollo Ma porca Troia Porca miseria Adesso se non ti sistemi Guarda Ti uccido Mouse di merda Ma veramente Una cosa assurda Sto mouse Veramente Cazzo Oh Oh E non si muove Mamma mia Che mouse Di merda Io scommetto Che mi Che mi farà perdere Per colpa sua Maio Cazzo Ma dov'è Dottor Cobri Si cazzo Lo sto giocando Da mezz'ora E non lo trovo Mai Io non ci credo Che in tutti questi angoli Ci sia Se me la prendo Al giro Mi vado attorno Va Sto mazzato Un altro Player Non posso manco Girare intorno Manco Dottor Cobri Ammazzalo Ammazza qualcuno Che sono troppa gente Qui Porca miseria Tra lo 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 A quanti cazzo siamo Dottor Cobri Si è morto Come Si è morto No Gandalf No Merda Mi sono fatto male Adesso Cioè non ci credo E' morto Mi vendicherò Del dottor Cobri Anche a costo Di ammazzarmi Io Figlio di puttana Io sono Gandalf Faffanculo Faffanculo Bastardo Bastardo maledetto Sei stato tu A fallo fuori Adesso te la faccio pagare Stronzo di merda Dottor Cobri Fidati Ti vendicherò io E se non ce la dovessi fare Dì a mia moglie Che l'amo Infatti ha ammazzato uno lì Sono dentro la grotta Sono in tre E' ospite Fanculo Sono tutte tre lì Sono una squadra Ma vedetti Siete una squadra Siete tre contro uno Brutto andare ad attaccarli via Una grotta Sono furbi I nostri principini I principini I principini Che cazzo Stanno facendo Una E' brutta questa E' un match Sono in tre C'è C'è uno Maledetto Mi ha visto Nasconditi Sono Gandalf Gandalf il grigio Nessuno Mi può far fuori Mi voglio Sì ma aspetta Faccio la stanza Per lo zombie Fanculo Maledetti Bastardi Non vincerò O la falla Spacca Spendo da dietro Pezzi di merda Dun 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 E lui qua ce ne andiamo porca loga porca loga sono equipaggiati questi che a miseria è un casino minchia posso fare naruto no che devo andarmela a ammazzare no maledetti sono in 3 cazzo si sono fatti qua per vincere dobbiamo fare 3 contro 3 un voltasino ti vendicherò forse poi ce la farò si ma quando riparte il server spammano due enderman ma non fategli nulla sono in la merda perché loro sono in 3 porca miseria qui è stato ucciso sicuramente il dottor Kubris no qui ha trovato la morte merda aspetta un attimo posso farmi un buco oh cazzo dove cazzo tra i litiganti il terzo gode vedetto muori stronzo di merda stiamo litigando tra i due litiganti il terzo gode dove cazzo sono se noi voglio la spada cazzo a dove cazzo state andando minchia che palle seguirvi vieni fatevi sotto su si 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 certo 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 penso anch'io si 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 baffanculo sono morto a 6 97 ok baffanculo quindi per questo video è tutto raga sono morto stavano insieme nel senso che era un gruppo quindi era impossibile vincere però porca cazzo Gandalf dovevo vincere cazzo maledetti quindi per questo video è tutto da Gandalf è tutto un saluto ciao